È una lunga scia quella lasciata dalle parole di Walter Veltroni sul suo ritiro da parlamentare. Nel PD molti hanno deciso di seguire la sua strada e fioccano i primi annunci, come quello di Pierluigi Castagnetti, Livia Turco, Tiziano Treu, Paolo Giaretta e Arturo Parisi. E forse molti altri big che non ci saranno, almeno a sentire le parole di Massimo D'Alema che ribadisce «Mi candido solo se me lo chiede il partito». Nello stesso parere anche un altro anziano del PD, Franco Marini, che ha rimesso nelle mani degli organi del PD la decisione sulla sua ricandidatura e non nasconde dalle pagine del quotidiano Il Messaggero la sua preoccupazione. «Se per astratto davvero dovesse prevalere Renzi», ha domandato Marini confermando il suo sostegno a Bersani nelle primarie, il PD potrebbe restare quello di prima e aggiunge «Rotta mazione è uno slogan inaccettabile e solo l'idea che uno possa usare quei toni nei confronti di una persona come Massimo D'Alema mi manda in bestia». Intanto Bersani, durante il videoforum su Repubblica, toglie ogni dubbio. «Tutta questa gente non c'era bisogno di Renzi perché facessero una riflessione, non c'era bisogno. Perché è tutta gente a uno a uno che sa benissimo che si può essere protagonisti senza essere parlamentari, che sa benissimo di questa esigenza collettiva nostra di far girare questa ruota. Quel che non è accettabile è che ci sia qualcuno che si impanca a quello che ha mangiato il frutto dell'albero della scienza, del bene e del male e può dire «tu sei un ramo secco, te sei un motorino da rottamare». Questo non è accettabile». Sulla parola rottamazione la diatriba coinvolge anche l'editorialista Michele Prospero che sull'unità scrive «Rottamazione è una parola fascistoide, meglio parlare di rinnovamento e di merito». Un monito indirizzato soprattutto a Matteo Renzi che sul suo profilo Facebook si difende. «Oggi l'unità quotidiano del mio partito sostiene in prima pagina che io sia autore di una proposta fascistoide e costile e sobrietà mi giudica volgare, rozzo, populista, suicida, cinico, arrampicatore, brutale. Tutto in un solo articolo. Ho molto apprezzato che non ci sia alcun riferimento alle mie evidenti responsabilità nella creazione del buco dell'ozono». Battute a parte, il dibattito è serio e pone interrogativi interessanti su cui si giocherà il futuro della nuova classe dirigente del PD. Per adesso una certezza c'è. La presidenza del PD ha ufficializzato che sono ammessi alle primarie, oltre al leader del partito Bersani, anche le candidature di Matteo Renzi e Laura Puppato.